Si terrà domenica prossima il concerto di Pasqua nella chiesa di Sant'Antonio da Padova di Cerignola, un modo per vivere i riti della Settimana Santa. Sentiamo. Un concerto per rivivere grazie alla musica la devozione che lega le comunità durante la Settimana Santa. Brani di Bach e Mozart che saranno eseguiti dal coro polifonico Farinelli di Andria, diretto dal maestro Graziano Santovito che faranno vibrare i cuori di chi parteciperà nella Domenica delle Palme all'appuntamento che sarà ospitato nella chiesa dedicata a Sant'Antonio da Padova Cerignola nel Foggiano, un concerto che rinnova la tradizione. Fa parte della nostra tradizione un po' di Cerignola a introdurre sempre la Settimana Santa con un momento musicale, un po' la tradizione delle bande. Quest'anno un po' per la situazione, la musica aiuta anche a riconciliarsi con se stessi. E quindi la gente è un po' spaventata, la guerra, tante preoccupazioni, la pandemia che sembra andar via ma poi ritorna prepotentemente. Abbiamo ritenuto con il Consiglio Pastorale di voler introdurre la grande settimana, la Settimana Santa con questo momento musicale. La musica è sempre un momento di meditazione, è sempre un momento di preghiera. Il concerto introduce la Settimana Santa e la Passio Cristi che portano alla riflessione sull'importanza della vita. Io credo che la Settimana Santa è un grande aiuto. Ben preparata con il cammino di Quaresima, la Chiesa nella sua saggezza ci dà 40 giorni di conversione, diciamo noi, ma io direi per un'opportunità per prepararci bene a vivere questo momento. Io credo che la cosa che dovremmo sempre di più pensare e ripensare è metterci dinanzi all'immagine di Cristo crocifisso e pensare che Lui è andato a morire per noi, volontariamente è salito sulla croce, noi valiamo il sangue di Cristo e tante volte noi banalizziamo con i nostri comportamenti e non cogliere il vero significato della redenzione. Grazie a tutti.